La Criterium d'altri tempi 2017 omaggia Paolo Villaggio. La tradizionale e particolare gara ciclistica in abiti d'epoca che ha interessato le vie del centro di Bassano ha voluto dare un tributo all'attore che interpretava il ragionier Fantozzi. Una squadra ha messo in scena la leggendaria Coppa Cobram. In sella! In sella alla bersagliera! A sfidarsi ben 84 squadre. Ognuna era formata da due ciclisti. L'edizione è stata coronata anche dalla partecipazione di due corridori professionisti, Lian Bertazzo e Andrea Borso. Presenti anche Pippo Pozzato e Matteo Busato.